Ripartenza senza eccessi a Lecco nel primo giorno di fase 2 che segna il parziale ritorno sui luoghi di lavoro. Ancora contenuto l'aumento del traffico sulle strade sia a cittadine che fuori dal capoluogo. Nessun incolonamento sulle principali arterie come la Lecco Bergamo, così come nel Meratese, lungo la provinciale che porta verso la tangenziale est. Ancora pochi anche i pendolari in stazione. A Lecco la polizia ferroviaria verifica i moduli di autocertificazione, mentre i volontari dell'associazione Carabinieri distribuiscono mascherine gratuitamente ai viaggiatori. Sui treni nessuna calca, anzi i vagoni sono ancora semideserti, segno che la maggior parte dei lavoratori non ha ancora ripreso o sta proseguendo il proprio impiego in smart working da casa. Situazione analoga anche alla stazione di Cernusco-Merate. I posti sulle carrozze sono contrassegnati, seppur non in tutti i vagoni, per garantire il distanziamento.